Insegnare ai giovani che anche nell'epoca del consumismo, dove tutto si può comprare, ci sono ancora ideali in cui credere, affrontare il futuro con la consapevolezza del passato, con un racconto straordinario, le gesta vissute dai 1700 giovani soldati, all'epoca poco più che ventenni, e dai 50 ufficiali, tutti alpini del battaglione L'Aquila, durante la campagna in Russia del 1942. Sono loro gli eroi del Gran Sasso e le testimonianze dei pochi ancora in vita, raccolte in un documentario autovisivo verranno presentate il 19 maggio al Supercinema di Chieti. L'iniziativa è rivolta soprattutto agli studenti delle medie teatine. Abbiamo pensato di coinvolgere le scuole e gli studenti perché venisse da conoscenza delle tristi situazioni terribili vigente che sono accadute proprio nella Seconda Guerra Mondiale. Il documentario, frutto di una ricerca regionale iniziata nel 2005 sull'Abruzzo nella Seconda Guerra Mondiale, rivela soprattutto l'aspetto umano di una conflagrazione combattuta non solo sul fronte, ma anche in casa. Un'introspezione nella realtà di quanti rimasti a casa mentre i loro cari lottavano a mille di chilometri di distanza nel nome di un sacrosante ideale, la patria. Non dimentichiamo che lungo il fiume Sangro passava la cosiddetta linea Gustav. A sud c'erano gli alleati che avanzavano, a nord i tedeschi che si ritiravano e la popolazione civile stava in mezzo fra due fuochi. Il film raccoglie, tra le altre, le testimonianze del re Duce Valentino Di Franco, alpino del battaglione L'Aquila, che combatte a Seleniar e subì l'amputazione degli arti inferiori per concelamento, e del tenente Carlo Vicentini, degli alpini del battaglione Monte Cervino. Ma gli eroi del Gran Sasso sono molti di più. Chi sono gli eroi del Gran Sasso? Allora, gli eroi del Gran Sasso sono dei simpatici ragazzi di 88, 89, 90 anni che ogni anno si riuniscono per festeggiare il ritorno. Il ritorno da un'impresa che sembrava impossibile, come è stata, un'impresa suicida, che è quella della campagna di Russia. Una battaglia terribile, una settimana, è durata la battaglia, il Natale del 1942, ha risultato la loro giovinezza perché hanno avuto uno scontro a fuoco con un nemico pazzesco, di una portata incredibile. Loro dovevano combattere con fucili contro i T-34, che hanno carri armati i russi con le corazze così spesse, e con i fucili addirittura alla fine dell'Ottocento. E questi ragazzi avevano avuto ordine di non indietreggiare, di essere lì. E per una settimana sono rimasti lì, in mezzo alla neve, notte e giorno, con un nemico davanti, che era quello appunto dell'esercito sovietico, l'armata rossa, che era arrivata a 10 milioni di uomini in quel periodo, e un nemico che invece li aggrediva da tutte le parti, che era il gelo. Di quante persone parliamo? Parliamo del battaglione L'Aquila, che è partito dall'Abruzzo con 1700 soldati e 50 ufficiali, ed è tornato, appunto, decimato da quella guerra, con 160 soldati e 3 ufficiali.